Con l'arrivo dell'estate sento tantissime persone lamentarsi di non riuscire a mangiare bene né allenarsi altrettanto bene. Questo ovviamente è un inghippo al raggiungimento dei propri risultati. Quindi in questo video vorrei dirti cosa fare per poter evitare problematiche durante la stagione estiva e continuare a mangiare e allenarti nel migliore dei modi. Ciao a tutti ragazzi sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questo nuovo video. Allora con l'arrivo dell'estate e quindi l'innalzamento delle temperature ambientali la prima cosa da fare ovviamente fondamentale detta e ridetta da tutti è quella di assumere un'adeguata quantità di liquidi, nello specifico di acqua. Rimanere idratati è fondamentale, primo perché se sei ben idratato soppri meno il caldo quindi anche la percezione della temperatura esterna è diversa. E secondo perché la resa del tuo organismo non risente le alte temperature. Viceversa anche una minima percentuale di disidratazione può inficiare negativamente sulle prestazioni sia fisiche che mentali. Inoltre non dimenticarti che una cellula ben idratata è più predisposta alla sintesi proteica quindi è fondamentale essere ben idratati. Come essere ben idratati? Ovviamente assumendo una quantità sufficiente di acqua, ricordiamoci che l'acqua è anche in frutta e verdura e non trascurando anche l'aspetto dei sali minerali perché questi anche sono molto importanti nella trasmissione degli impulsi nervosi ma anche per la gestione dei liquidi intra ed extra cellulari. Questo non significa che ti devi svegliare la mattina e bere il Gatorade ma semplicemente di idratarti bene assumendo una quantità adeguata di acqua naturale minimo a due litri e mezzo e assumendo una quantità adeguata di minerali dal cibo ad esempio dalla frutta e dalla verdura. La quantità di acqua da assumere dipende ovviamente anche dal tipo di attività che fai. Se fai un allenamento breve e intenso magari basato su serie con basso numero di ripetizioni alto carico e recupero completo ovviamente la sudorazione sarà limitata e avrai una perdita di liquidi limitata. Viceversa se fai allenamenti metabolici quindi all'alto numero di ripetizioni bassi recuperi con una produzione importante di acido lattico e quindi con un innalzamento importante della temperatura corporea di conseguenza della sudorazione è ovvio che avrai un fabbisogno di liquidi e sali minerali di molto superiore quindi tienile conto. Poi altra cosa cerca di allenarti le prime ore della giornata o al massimo le ultime ore della giornata quando la temperatura è più bassa e quindi l'allenamento risulta più agevole e meno stancante. Ora se puoi scegliere scegli le prime ore della giornata quindi verso le 6, le 7 della mattina, le 8 perché gli allenamenti in tarda giornata non sono proprio il top per i nostri ritmi circadiani e in molti soggetti potrebbero ostacolare in qualche maniera il riposo notturno. Poi se fai allenamenti estremamente intensi, in questo caso sì possono esserti utili le bevande isotoniche. Cosa sono le bevande isotoniche? Sono delle bevande che hanno un contenuto di nutrienti nello specifico sali minerali e eventualmente anche carboidrati che è simile a quello del nostro sangue e quindi si rivelano particolarmente utili nel recupero. Ma queste possono essere utili solo quando veramente fanno un'attività estremamente intensa con una sudorazione veramente elevata. Non tanto per la persona che fa 50-60 minuti di allenamento magari a lattacido come indicato ma persone che fanno invece un allenamento molto molto metabolico di endurance e con una sudorazione estremamente elevata. Quindi in quest'ultimo caso è bene sfruttare anche le bevande isotoniche. Come già detto cerca di consumare una buona quantità di carboidrati da frutti e verdure che sono ricchi di acqua, di sali minerali e anche di vitamine e un altro consiglio molto utile specialmente per quanto riguarda l'alimentazione è di abbassare l'apporto di grassi. Sì perché spesso e volentieri le persone lamentano il fatto di non riuscire a mangiare d'estate con il caldo e non hanno fame. Questo fatto è dovuto da più fattori. Intanto il dispendio energetico in estate dovrebbe essere inferiore perché il nostro corpo non si deve scaldare come in inverno. Seconda cosa il caldo in sé si attira verso tutta una classe di alimenti un po' differente ad esempio siamo più attirati dal mangiare poco e mangiare magari della frutta, della verdura. In questo senso una buona pratica è quella di ridurre l'apporto di grassi quindi magari preferire fonti proteiche più magre ad esempio il petto di tacchino piuttosto che la fesa di manzo o la sottofesa di manzo e vedrete che riducendo l'apporto di grassi avrete un pochettino più appetito e una digestione meno difficoltosa. Io ad esempio istintivamente d'estate consumo meno uova intere perché sento meno esigenza di consumare grassi e mi oriento di più sul pesce e le carni magre. Il fatto di consumare meno grassi non è solo per ridurre diciamo l'apporto di energia che diciamo le cui necessità sono inferiori perché è estate ma proprio perché i grassi in sé vengono utilizzati dal nostro corpo anche per la termoregolazione e ovviamente in estate non abbiamo bisogno di riscaldarci perché la temperatura all'esterno è già più elevata. Poi altro consiglio utile cerca di prepararti dei classici piatti freddi fuori è caldo e sicuramente ci attirano di più i piatti freddi quindi magari fare un'insalata di pesce che si consuma fredda oppure un'insalata di riso se hai bisogno di consumare una buona quantità di carboidrati oppure potresti farti anche in low carb un'insalata col pollo cuoci il pollo, lo tagli a pezzettini, lo fai raffreddare in frigorifero e magari gli aggiungi delle verdure, non lo so, delle carote, delle cipolline ecco vedrai che nonostante il caldo con i piatti freddi sarai più incentivato anche a mangiare per finire non dimenticarti che il 70% del muscolo è composto da acqua quindi è fondamentale, lo ribadisco, essere ben idratati portati sempre con te la bottiglia d'acqua in allenamento rigorosamente BPA free e poi ne parleremo e se puoi preferisci allenamenti con un carico più alto e ripetizioni più basse piuttosto che allenamenti metabolici che comportano un'alta fatica e sudorazione questo ovviamente andrà contro le preparazioni di molti che invece fanno tutto il contrario per volersi definire quindi aumentano le ripetizioni e fanno lavoro ancora più metabolico però questo è il mio consiglio per numerosi motivi che poi affronto anche in altri video bene, per questo video è tutto mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube di attivare la campanella e che dire, ci vediamo al prossimo video grazie